Ordine esecutivo, operazione Flashpoint. Mandare a monte il loro programma spaziale. Distruggere i missili a lunga gittata. Far fuori il gruppo Ascensione, formato da scienziati nazisti ingaggiati dai russi dopo la guerra. Sì, gli serviva il loro sapere. La loro conoscenza. Operazione 40 aveva infiltrato una spia nel gruppo Ascensione. Ma Gregorio Weaver era lì per sabotare il razzo. Ma qualcosa è andato storto. Non riesco a togliermi questi numeri dalla testa! Weaver non rispondi. Noi dobbiamo andare! Occhi aperti, Mason! Andiamo! Muoviamoci! Whisky, rispondete! Avanti, X-ray! Il lancio del suo Yuzuno è imminente. Ci muoviamo, passo! Roger! Il tempo stringe, Mason. Andiamo! No, no, no. Qualcosa non va. C'è troppa attività. Yankee-1-3, rapporto. Yankee-1-3, rapporto. Weaver è sparito. Vediamo che c'è là fuori. Sono al conto alla rovescia finale. Ecco il suo Yuzuno. Verrà lanciato dieci minuti prima del suo Yuz2. Ci sono le piccole comunicazioni. Mason, rileviamo attività sulla strada. Controlla. No, è Weaver. L'hanno scoperto. Il nostro collega non vuole giustificare la sua presenza in questa struttura. Questo chi cazzo è? Arrendetevi ora e non vi sarà fatto del male. E' Kravchenko, amice di Dragovic. Non ci saranno altri avvertimenti. Non possiamo far niente, Mason. Weaver è andato all'osso. Come volete. Brutta storia. Frustis, che siete in posizione. Il gioco di 3, poi si copre la prova. Vi verrà il compromesso. La base sarà il massimo allerta. State in posizione. Noi entriamo. Bene. Andiamo. Elicottero in arrivo. Muoverci! Seguimi e non fermarti. A posto. Muoviamoci. Ci servono quelli uniformi. Io sistemo quello a terra. Tu pensa all'altro. Forza. Forza. Facciamo gli sparire. Per te salvare Weaver è la più importante dell'obiettivo. Uccidere Dragovic. Weaver era russo. Ma era a posto. Spero che il tempo a Vorkuta abbia migliorato il tuo russo. Va meglio. Dobbiamo salvare Weaver. No spara, resta calmo. Ehi, che è stato fatto? Ehi, sobbacchi proclatie. L'accordo, fai a cercare. Se i ciotoli bambini saranno brichati, пристрellite e chiediamo a sconcione. Ok. Brux e Pullman dovrebbero essere là davanti. X-Ray qui whisky. Niemici abistati. Li eliminiamo. Che è successo, Weaver? L'hanno scoperto. Continuiamo come previsto. Troveremo un altro modo. Va bene. Muoviamoci. Ehi, che è successo. L'edificio comunicazione è là davanti. Cecchini, sul tetto! Ce n'è un paio davanti! Bene, Boma, Brooks, toglieteli di mezzo. Un ass problema, da noi! Ci siamo? Ripulisci tutti i piani salendo, io taglio le comunicazioni. General, in New Milskir, il patrullo è in moste. Ci hanno fregati! Ho nominato Buske. Gai fiuso! Forza lì! Forza lì! Granata lanciata! Granata! Recevuto! Odrania! Stai morti! Granata! Tori, vai a rai! Tu si è tornata! Tori! Cerca di torta! Cerca di città, non è sicuro! Cerca di città, non è sicuro! Cerca di città! Cerca di città! Bersaglio a terra! X-ray avanti passo! Avanti! Abbiamo appena localizzato Weaver. E' in un bunker a sud dell'edificio comunicazioni. Mason! Mason, vieni qui! La balestra, i dardi esplosivi, ora! Copro la scala! Nemico in movimento da nord, siamo bloccati! Abbiamo compagnia! Sono in trappola, distruggiamo i veicoli!